Un uomo di 61 anni, residente a Monteprandone e corriere di professione, attualmente ricoverato in ospedale con un grave trauma cranico dopo essere stato investito lungo la statale 16 in territorio di Martinsicuro. L'incidente è avvenuto attorno alle 10 in prossimità dell'area di servizio APP vicino alla rotatoria di via Colombo. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Martinsicuro, l'uomo aveva parcheggiato il suo furgone e stava attraversando la statale, probabilmente per effettuare una consegna. In quel momento una Fiat Panda guidata da un uomo di 78 anni di colonnella è sopraggiunta e l'ha investito. L'impatto è stato violento e il pedone ha riportato un grave trauma cranico. Immediatamente soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato sottoposto a cure intensive. Le condizioni del corriere sono gravi e i medici stanno monitorando costantemente la sua situazione clinica. Intanto i carabinieri di Martinsicuro stanno proseguendo le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell'incidente. Stanno verificando se l'attraversamento da parte del pedone sia avvenuto in un punto sicuro e se il conducente della Panda rispettasse i limiti di velocità e le norme del codice della strada.